Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna e tra Rioveggio e Aglio, in entrambe le direzioni. Sempre in A1 codice giallo per neve, tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Cinestra Fiorentina in entrambe le direzioni. In conseguenza dell'emergenza sanitaria del coronavirus, nell'ottica di porre un limite ai contagi, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari, secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!